musica 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 vieni con me così penso che ci sia un altro reparto no non dobbiamo boh ok non è comunque niente alla fine questo fa tutto non mi sono proprio ammorsa cioè ieri tutta la festa per me è morta hai capito? ma no vado a dormire alle 6 e 3 di notte mi dà una comunione questa sto proprio male vado a dormire alle 6 e 3 di notte cioè proprio proprio sei lì sei lì tutti pieni signor? va bene grazie mille ecco 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 Grazie a tutti.